Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Oggi parliamo di crowdfunding. Come si pagano le tasse sui soldi raccolti tramite crowdfunding? E bisogna pagare le tasse? O trattandosi di qualcosa che sembra una donazione, forse non devo pagare tasse imposte ma semplicemente mettermeli in saccoccia e andarmeli a spendere? Se è vero che da una parte sempre più creatori di contenuti stanno utilizzando sistemi e piattaforme di crowdfunding come per esempio patreon.com per raccogliere i finanziamenti dai propri follower, dagli ascoltatori, da coloro che si sono iscritti al canale YouTube, dalle loro community, dall'altra parte si crea sempre di più la curiosità, la necessità di vederci chiaro, di capire come funziona questo crowdfunding dal punto di vista fiscale. Me lo chiedono in tantissimi e allora ho pubblicato qualche settimana fa delle mie riflessioni sul tema all'interno del podcast riservato ai finanziatori di Strategia Digitale, Strategia Digitale Pro, e proprio uno dei finanziatori di Strategia Digitale, Ilario Sabatini, ha scelto di mettersi a disposizione della community per raccontare quella che è la sua esperienza. Lui come formatore nel mondo della fiscalità ha conosciuto dall'interno i sistemi e le piattaforme di crowdfunding e altre possibilità oggi a disposizione di chi sa creare contenuti per monetizzare la propria capacità, le proprie conoscenze, dal self-publishing fino alla vendita di corsi online attraverso udemy.com. E allora si è messo a disposizione in una lunga chiacchierata con me per raccontare qual è il suo punto di vista sul crowdfunding, soprattutto quello reward-based, quello che prevede una ricompensa e quello che prevede una ricorrenza, come viene proposto da Patreon.com, per cui la community finanzia il progetto, il creatore, nel tempo, non con un unico finanziamento. Lo scopriremo tra poco. Prima ti ricordo che strategiadigitale.info è il nostro punto di ritrovo online, che tu sia un ascoltatore nuovo, passato per caso da questo podcast, o che tu sia un accanito ascoltatore di strategia digitale, l'importante è che tu possa mandare lì i tuoi amici o andare tu stesso su strategiadigitale.info per iscriverti al podcast e partecipare alla vita della community. Ma ora bando alle ciance perché è arrivato il momento di capire come funziona la fiscalità in Italia sul crowdfunding reward-based e di conoscere Ilario Sabbadini. Allora, io sono attualmente un formatore, sono un formatore in ambito appunto fiscale e previdenziale per aziende e centri di formazione. Quindi vado dalla formazione fiscale per chi elabora dichiarazione dei redditi alla formazione fiscale per dei magari dipendenti che fanno buste paga e che fanno altro. Insomma, mi occupo di questo dal 2005 e dal 2007 con la libera professione. Benissimo, allora partirei dal cuore, cioè fondamentalmente l'esigenza che nasce oggi per molti che attraverso il mondo digitale riescono a produrre contenuti, a offrire prodotti e servizi, l'esigenza è quella di poter incassare dei denari in maniera totalmente, diciamo, frictionless, senza attrito, in maniera semplice e veloce abbattendo quelle che sono le difficoltà, le spese, le burocrazie che hanno a che fare con la registrazione, la fatturazione. Insomma, il concetto è che ci sono molte persone che vogliono creare valori per gli altri, avere la contropartita di quel valore economica e anche non impazzire, non avere costi di gestione esagerati. In questo contesto, anche tenendo conto della resistenza dell'economia, del dono, della gratitudine, molti creatori di contenuti, youtuber, podcaster, ma anche illustratori, fotografi, hanno cominciato a utilizzare piattaforme di crowdfunding come Patreon, che sono delle piattaforme di crowdfunding, rewarding, quindi basato su un premio, tu mi finanzi, io in cambio ti do qualcosa, e ricorrenti, cioè non mi dai dei soldi una volta per tutte, ma decidi di impegnarti per darmi un tot di soldi al mese, liberamente interrompibili quando vuoi. Questo sistema, tu dal punto di vista della fiscalità italiana, come lo inquadri? Di fatto, la dialettica, il modo in cui questa cosa viene raccontato, è come una donazione, quindi un'elargizione volontaria nei confronti di un creatore di contenuti, che ha come contropartita un ringraziamento, che può essere simbolico o può essere anche pratico, per esempio l'accesso a un contenuto riservato, o all'anteprima sui video pubblicati. Da parte tua, come la vedi? Allora, la vedo in questo modo, intanto bisogna sfatare un mito, che è quello che l'Italia sia sprovvista di una legge ad hoc. Noi siamo stati uno dei primi paesi in Italia ad avere una legge sul crowdfunding, e precisamente nel 2012 è stato fatto un decreto legge, se vi ricordate sulla spinta, in quel periodo c'era il governo Monti, sulla spinta della ripresa, viene fatta proprio una legge ad hoc, che ha avuto poi come conseguenza una determina da parte della Consob, e quindi la Consob ha emesso una direttiva. Ora, qual è il problema in realtà? Il problema si pone proprio diciamo in termini linguistici, il problema è che noi parliamo di donazione, e questo è il grosso problema, e in Italia la donazione non è proprio così libera come uno può pensare, nel senso che la donazione ha delle caratteristiche ben precise. Diciamo prima, chi ha sempre diritto ad avere una donazione, e che sono gli enti no profit. Gli enti no profit, tutti ne abbiamo esperienza, la classica zalea piuttosto che la stella di Natale, noi facciamo un'elargizione liberale, e di contro ci viene dato un oggetto, ma poiché queste sono enti no profit, non devono sostanzialmente dichiarare queste donazioni. La donazione tra privati è possibile, ovviamente, ma non è esente da tasse. È esente da tasse su alcune franchigie quando la donazione viene fatta tra parenti sostanzialmente, genitori, figli, fratelli, sorelle. Negli altri casi in realtà vi è una tassa da pagare, che è quella dell'8%, ma la cosa probabilmente più significativa è il fatto che la donazione in Italia non può essere per lo stesso motivo ricorrente. È vietato dalla legge. Cioè il fatto di fare più donazioni, quindi liberalità, per lo stesso motivo in più occasioni. Perché questo ovviamente si configurerebbe per aggirare la norma, che prevede appunto che oltre la modica quantità ci sia una tassa da pagare e addirittura in alcuni casi il notaio per la donazione. Quindi se noi configurassimo la raccolta fondi come donazione potrebbe diventare anche più complicato di quello che invece può essere. Quindi direi come primo aspetto questo, cioè il fatto che abbiamo una legge sul crowdfunding e la donazione è sostanzialmente un'altra cosa, quella che noi chiamiamo donazione. Il problema, a mio avviso, è come configurare questa raccolta di fondi per i creatori nel momento in cui utilizziamo una piattaforma che tra l'altro, ad esempio pensiamo a Patreon, se noi ci pensiamo, Patreon è probabilmente la meno adatta per parlare di donazioni, perché il donatore addirittura su quella donazione paga l'IVA. È conosciuto il fatto che l'IVA è l'imposta sul valore aggiunto, cioè Patreon a me che sostengo un progetto vende un servizio, poi lo possiamo chiamare il servizio sostegno ai creatori o quant'altro, ma mi vende un servizio. Ecco perché io ritengo che tutto ciò che rientra nella raccolta fondi per sostenere un contenuto debba essere dichiarato al fisco nei redditi normali che un creatore di contenuto dichiara. E noi sappiamo che per i creatori di contenuti hai due possibilità. O sei libero professionista, però attenzione che non devi vendere contenuti, perché anche qui c'è un po' il falso mito, cioè per essere molto chiari, chi vende corsi su YouTube, su Udemy ad esempio, non può essere un freelance. Deve però per forza rientrare nella seconda categoria, ossia l'esercizio dell'attività commerciale. Quindi anche gli introiti che noi abbiamo col crowdfunding devono essere dichiarati in una di queste due posizioni fiscali sostanzialmente. Questo passaggio è molto interessante, credo che già faccia un po' cambiare la prospettiva, quindi passare dalla concezione della donazione a quella della raccolta fondi. Raccolta fondi come una delle attività capaci di produrre reddito che sono utilizzabili da professionisti e imprenditori. Quindi io, professionista e imprenditore, guadagno, produco reddito con la raccolta di beni o servizi, produco reddito con i diritti d'autore, produco reddito con la raccolta fondi, che ha una contropartita per chi dona dei denari a una contropartita a volte immateriale, la soddisfazione di poter aver finanziato il creatore dal dettaglio, ma di fatto è sempre una delle attività in un'ottica di differenziazione delle attività capaci di produrre reddito. Ora, hai citato per esempio il discorso di Patreon e del pagamento dell'imposta a valore aggiunto e questa è una cosa interessante perché Patreon in realtà da pochissimo ha scelto di sua completa iniziativa di inserire la value added tax, l'imposta a valore aggiunto, la sorella internazionale della nostra IVA, di aggiungere l'IVA sui finanziamenti, quindi sui fondi versati dai finanziatori. Ilario finanzia Giulio con 10 dollari al mese, di colpo i dollari sono diventati 12 e 20 perché 10 dollari al mese più IVA senza che Ilario in realtà tutto dicesse ne ha ne va. Allora, questa cosa ci mette in luce una architettura della struttura crowdfunding per esempio così come la pensa Patreon. Cioè, di fatto abbiamo da una parte il creatore, Giulio, dall'altra parte abbiamo il finanziatore, colui che versa i fondi, Ilario. Di mezzo c'è il soggetto Patreon e in realtà Giulio riceve i soldi da Patreon. Ilario dà i soldi a Patreon e Patreon in mezzo applica tutta una serie di commissioni o di operazioni quale può essere l'imposizione dell'IVA. Allora, spiegami un attimo la differenza tra gestire la raccolta fondi attraverso una piattaforma come può essere Patreon e gestire la raccolta fondi in forma diretta. Cioè, Giulio potrebbe dire a Ilario Ilario mandami i tuoi 10 dollari al mese direttamente tramite Paypal o come bonifico sul punto corrente bancario. Che differenza hai dal punto di vista fisicale? C'è molta differenza perché una delle caratteristiche della donazione è la consegna materiale del bene. Cioè, la legge prevede che la donazione sia fatta attraverso la consegna materiale del bene che chi riceve la donazione perfeziona proprio la donazione ricevendo il bene. Questa è una grossissima differenza per sgombrare il campo dal fatto che non siamo nel campo della donazione. Se invece io do una donazione a giugno direttamente quindi c'è un passaggio diretto io consegno questo bene che possono essere i 10 euro a giugno perfetto se questa donazione è di modica quantità qui poi potremmo discutere sulla modica quantità ed è univoca la donazione cioè quindi io ti do una donazione perché fai gli anni perché è il tuo compleanno oppure se in campo ad esempio di parentela perché ti compro la macchina io sono tuo padre e ti compro la macchina è univoca il fatto della ricorrenza ad esempio implica comunque anche nel passaggio materiale che questa non sia una donazione perché io addirittura devo sommare per ogni donatore tutte le donazioni e a quel punto se io supero la modica quantità ho addirittura come dicevo prima bisogno del del notaio per fare questo tipo di donazione ecco se interviene una piattaforma manca l'elemento della consegna materiale del dono e poi entrano tutta una serie di altre cose cioè il fatto che nel momento in cui io sostengo Giulio io vado in realtà a comprare un servizio da Patreon che ti gira poi i soldi noi potremmo quasi definire Patreon come che servizio mi vende Patreon mi vende il servizio di sostenere un creatore ok quindi io con Patreon compro effettivamente un servizio di questo genere ma poi in realtà Giulio permettemi di fare una piccola premessa forse la confusione nasce anche dal fatto che c'è un'idea sbagliata cioè si pensa alcune volte che uno possa fare il creatore di contenuti nel web con la prestazione occasionale i famosi 5.000 euro fino a 5.000 euro che è una delle cose più sbagliate che ci possa essere dare un consiglio del genere la prestazione occasionale è quella prestazione che io faccio innanzitutto verso imprese libere professionisti o lavoratori autonomi quindi la prestazione occasionale si configura in questi tre casi io Ilario faccio una prestazione per uno di questi tre casi a quel punto se non raggiungo i 5.000 euro così si configura e deve avere appunto la caratteristica di occasionalità di sporadicità di non essere professionale il fatto di andare online con un podcast con un video su youtube 24 ore al giorno 7 giorni su 7 configura per forza l'apertura della partita IVA se ci fosse questo passaggio secondo me e che non c'è sempre lo diciamo senza condannare nessuno perché come giustamente dicevi tu all'inizio purtroppo c'è molta anche ignoranza nel senso buono del termine cioè si ignorano alcune regole perché sono anche nuove per noi ecco se ci fosse questo passaggio forse sarebbe anche più semplice capire che allora tutto ciò che ruota attorno questa mia attività rientra anche proprio come proventi rientrano in quel reddito più o meno alto poi possiamo discutere se scegliere la libera professione o scegliere l'attività commerciale ovvio che se io faccio un corso solo su Udemy e lo pubblico per legge io devo aprire la partita IVA come attività commerciale certo però mi costa 3.700 euro all'anno di contributi fissi che io guadagni 100 euro che ne guadagni 20.000 quindi la scelta la dovrò fare ma una volta fatta la scelta ciò che ruota attorno alla mia scelta da imprenditore fra virgolette del digitale ovviamente tutti i proventi vanno a finire lì su questo discorso dei corsi ci ritorniamo tra un attimo perché credo che sia interessante anche metterlo sullo stesso piano rispetto ad altre attività di produzione dei contenuti e di guadagno rispetto alle vendite lo lasciamo un secondo tra parentesi ma ritorniamo al discorso dei finanziamenti tramite Patreon allora abbiamo detto l'attività di raccolta fondi è da sostituire l'idea di donazione quindi crowdfunding no donazione due cose diverse quando parliamo di crowdfunding parliamo di raccolta fondi ok raccolta fondi può essere sì dimmi no esiste anche il crowdfunding donation in inglese ma è un termine inglese ok che non significa donazione come lo intendiamo noi fiscalmente in Italia ecco volevo precisare questo certo hai fatto bene a specificarlo anche perché nel cappello del crowdfunding nell'universo anglosassone ci sono delle varie sottocategorie di crowdfunding questo io per esempio nel corso che ho creato per chi vuole utilizzare il crowdfunding su Patreon ho dato un dettaglio prima di tutte le tipologie di crowdfunding equity crowdfunding lending crowdfunding reward crowdfunding tante tipologie e donation crowdfunding andiamo a vedere questo crowdfunding tipico che sta funzionando molto bene e lo stanno implementando anche youtube per esempio sta strizzando l'occhiolino a questa possibilità quella di sostenere il creatore di contenuti tramite l'invio di somme di denaro attraverso questa piattaforma allora abbiamo detto che si tratta di un finanziamento finanziamento che è un'attività esattamente come il fare consulenza o il fare formazione una delle voci delle attività è finanziamento chi mettiamo che io sia un professionista una partita IVA chi riceve se ricevo donazioni tramite Patreon quindi tramite una piattaforma che tipo di documento fiscale devo emettere nei confronti di Patreon numero uno e numero due all'interno della mia dichiarazione dei redditi dove devo andare a mettere quei soldi che ho ricevuto tramite la piattaforma e poi numero tre stesse due domande nel caso della del finanziamento diretto quindi della raccolta fondi fatta senza un intermediario allora molto semplicemente io come documento devo emettere fattura a Patreon c'è la questione dell'IVA perché Patreon se non sbaglio ricordami è americana o inglese è americana c'è la regola dell'IVA ma che diciamo mi sento di dire che per il 90% dei creditor se aderiscono al regime forfettario l'IVA conta poco per cui comunque la fattura la fattura è il documento il reddito va a comporsi come diciamo reddito complessivo quindi entra come qualsiasi altro reddito che io fatturo la stessa cosa vale anche nei confronti della donazione diretta se io voglio essere corretto il finanziamento dicevi vedi che anch'io parlo di donazione a forza di parlare no ma perché guarda veramente Giulio cioè io lo dico sempre quando tengo i miei corsi un conto è quando si parla in modo accademico un conto è che nel parlare comune per l'amor di Dio nulla vieta di usare il termine donazione se questo però fra fraintendere ovviamente crea il problema ecco torno però subito a bomba la tua domanda quindi il finanziamento diretto comporterebbe le stesse regole nel senso che tu Giulio emetti una fattura a me non so ci mettiamo d'accordo che tu me la emetti una volta all'anno io ti ho versato 100 euro e mi emetti la tua fattura con IVA o senza IVA secondo del regime fiscale che tu hai scelto ovviamente quindi non cambierebbe nulla in questo senso questo per lo stato delle cose in questo momento in Italia richiederebbe l'emissione di una fattura elettronica sì certo e in ogni caso diciamo l'emissione della fattura che può essere un costo nel momento in cui la vado a portare in contabilità al di là di quello che del pagamento delle tasse su quello che ho ricevuto allora lancia il tema dell'emissione della fattura anche una riflessione sui micropagamenti nel senso devo sapere io come professionista come imprenditore nel momento in cui avvio un'attività di raccolta fondi qual è la mia bottom line cioè qual è la cifra sotto la quale la donazione di il finanziamento di Ilario mi diventa un costo invece che un guadagno perché magari lui finanzia con 50 centesimi e io pago il commercialista 50 centesimi a fattura per l'emissione della fattura elettronica quindi devo tenere bene in mente questo tema questo valore se non lo so lo devo conoscere devo andarmi a informare bene chiedendo al mio commercialista facendomi due conti capire ogni fattura che emetto elettronica quanto mi costa alla fine della fine dell'anno sulla dichiarazione perché quel costo lì devo essere devo averne consapevolezza perché le mie la raccolta fondi può partire da quella cifra in su la seconda cosa che secondo me è importante che sollevi con il discorso della fatturazione è che la fattura in sé implica la raccolta di dati Giulio deve raccogliere i dati di Ilario per poi di mettere fattura elettronica la conservazione di questi dati il tempo da impiegare nell'emissione della fattura o nella gestione dell'invio della fattura se non facciamo tutto questo in maniera automatica e quindi può essere preferenziale l'utilizzo la scelta di una piattaforma per fare questo se non altro perché andiamo a emettere una fattura per ogni grande pagamento raccoglitore di tutti i miei finanziamenti su Patreon io posso liberamente scegliere quando Patreon mi deve pagare i soldi lui in realtà raccoglie mensilmente i soldi poi io ogni tanto gli dico mandami i soldi oppure gli posso dire mandameli ogni mese bene quando me li mando a quel punto devo emettere un documento fiscale un documento che in questo momento non sarà una fattura elettronica perché nel caso di Patreon stiamo parlando di una società internazionale quindi va sugli Stati Uniti giusto? perfetto direi che hai riassunto perfettamente aggiungo solo che è molto importante quello che tu hai detto di conoscere anche questi costi spesso e volentieri ma adesso uscendo un pochino dal tema ma per farci capire da tutti spesso e volentieri noi lo facciamo per tutto questo parlavi di fatturazione elettronica ovviamente quando è diventato obbligo per tutti la fatturazione elettronica ognuno sarà andato a vedere questo programma mi costa questo questo mi costa questo farlo in autonomia se ne sono capace lo posso fare sì però magari alla fine mi costa di più perché il tempo lo studio del programma e quant'altro quindi giustamente il rivolgersi a piattaforme che fanno questo di mestiere credo senza fare pubblicità a nessuno ma che faccia risparmiare tempo a tutti di sicuro sicuramente oltretutto una piattaforma riesce a negoziare con il payment processor quindi con il software che gestisce i pagamenti il servizio che gestisce i pagamenti banalmente paypal o il circuito visa riesce a negoziare delle tariffe per ogni pagamento diverse rispetto a quelle che riesco a negoziare io quando per esempio ho iniziato tanti anni fa la vendita di prodotti digitali online lo stesso paypal mi ha chiamato e mi ha detto sai Giulio abbiamo aperto un programma sperimentale al tempo per i micropagamenti cioè una tariffazione diversa per chi riceve pagamenti inferiori ai 10 euro quindi questa tariffa diventa non più conveniente se passi a pagamenti superiori ai 10 euro se la maggior parte dei tuoi pagamenti è superiore ma se tutti i tuoi pagamenti sono inferiori o la stragrande maggioranza allora ti consigliamo ti conviene andare a richiedere questa tariffa sperimentale quindi questo ci dice che paypal non è che costa x perché deve costare x anche paypal offre un servizio paypal per dirne uno offre un servizio di sulle transazioni con una sua strategia commerciale e allora diventa interessante questo punto di vista ehm io ti chiedo una cosa vabbè prima di tutto visto che abbiamo parlato di piattaforme può essere interessante eh analizzare anche la valuta o l'esperienza che ci offre la piattaforma quindi la piattaforma ci offre prima di tutto il vantaggio di non dover raccogliere tutti i singoli pagamenti pagare la commissione paypal su ognuno di essi andare a controllare ogni mese che il pagamento si sia rinnovato ma attraverso una piattaforma come Padre non posso vedere in una sola schermata tutte le persone che mi vogliono finanziare lo stato del loro pagamento quanto mi hanno dato ogni eh nel tempo quanto mi danno ogni mese e da un'unica schermata con un servizio che fa l'intermediario conoscere tutto questo e oltretutto emettere un solo documento fiscale quando scelgo io quindi una sola fattura a Padron quando scelgo io di incassare i soldi ma ci sono degli altri punti degli altri possibili vantaggi che devo eh analizzare per esempio Padron in questo momento accetta finanziamenti solamente in dollari questo per chi sta in zona euro come noi è un po' uno svantaggio io ho molti finanziatori che mi hanno detto Giulio ma che è sta storia dei dollari c'è la fregatura no perché io non me ne intendo ecco chi non è abituato a spendere in varie valute a volte viene spaventato dal fatto di dover spendere in una valuta straniera magari non capisco il cambio spendo più di quanto volevo quindi anche nella scelta della piattaforma potrebbe ricadere la nostra il nostro gradimento su una piattaforma come Gumroad Gumroad è un'altra piattaforma che non è pensata per il crowdfunding che però nel momento in cui in Italia il crowdfunding uguale non donazione ma uguale raccolta fondi e raccolta fondi uguale a una delle attività commerciali del professorista dell'imprenditore Gumroad può essere una piattaforma interessante per garantire l'accesso ad determinati contenuti o gestire la reiterazione di pagamenti ricorrenti pagamenti ricorrenti che per sé sono una funzionalità di Paypal cioè in realtà anche quando su Patreon prendiamo un finanziamento ricorrente Patreon va ad attivare l'opzione di Paypal che permette di prendere i soldi in maniera ricorrente dalla carta di credito del finanziatore ora andiamo ad analizzare la possibilità di una transazione diretta c'è un sistema che io amo molto si chiama Satispay un sistema per passare denari da persone a esercizi commerciali con nulle o bassissime commissioni per gli esercenti ma anche un sistema per passare denari da persona a persona cioè Giulio può mandare 10 euro a Ilario in quel caso potremmo utilizzare la ricevuta o la rendicontazione di Satispay come un documento una ricevuta un documento fiscalmente valido o comunque dobbiamo mettere la fattura bella domanda intanto devo dire che io ho conosciuto Satispay grazie a Giulio Gaudiano e quindi questa è la premessa e che è un metodo molto ma molto interessante ecco qui ritengo che in via generale io sarei portato a dire che debba comunque essere emessa la fattura a questo punto io sentivo mi permetto di citarla la tua intervista che hai fatto ai creatori o comunque a chi lavora in Satispay che diceva che stavano implementando cercando di implementare comunque delle funzionalità proprio per sostenere i creator ecco in queste funzionalità io credo che Satispay stia pensando anche a qualcosa di questo genere perché in realtà nulla ci esenta dall'emettere il documento fiscale anche se fosse per un euro e quindi Satispay in questo momento io lo vedrei come il fatto se io ti portassi a casa perché abitiamo vicini e invece di passare per il bonifico che mi costo quant'altro ti porto a casa tutti i mesi i 10 euro ecco quindi in questo caso io ritengo che dovrebbe essere emessa fattura direttamente a me in questo caso perché in realtà mi sembra di aver capito che Satispay faccia da intermediario ma è vero trattiene delle piccole commissioni ma si tratta più di un pagamento diretto è un intermediario come se fosse loro dicono che non lo sono e è vero che non lo sono come se fosse un conto corrente bancario o una carta che uso cioè uno strumento al fine di ecco esatto per cui ritengo che dovrebbe essere messa a fattura direttamente alla persona che ti fa la donazione che ti fa il finanziamento stavo guardando proprio in questo momento il Satispay che ha in italiana è importante capire che al di là di quello che mi offre lo strumento cioè al di là di quello che lo strumento permette a Patreon per esempio non è che ti chiede di mettere la fattura lui ti paga chi si è visto si è visto è importante che noi ci assumiamo la responsabilità di conoscere come abbiamo fatto insieme a te Ilario oggi e organizzare la nostra attività in maniera che possa essere accordata con la normativa volevo chiederti un'ultima cosa a proposito di contenuti online abbiamo parlato di corsi Udemy io oggi ho la possibilità dalla mia scrivania di creare un corso per Udemy pubblicarlo e farlo vendere da Udemy alla cifra che decide lui secondo il suo algoritmo e incassare una percentuale variabile dalle vendite del corso tramite Udemy posso anche creare un pdf quel pdf metterlo su Amazon Kindle Direct Publishing creare un libro e quel libro da quel libro può dare una percentuale variabile a seconda del mercato sul quale viene venduto il mio libro attraverso Amazon posso creare un audiolibro per esempio e venderlo mettere a disposizione attraverso gli store oppure distribuirlo attraverso Otibo allora queste forme per esempio pensiamo al libro e al corso su Udemy non sono due forme analoghe cioè io di fatto su Udemy sto facendo un'attività commerciale sto vendendo i miei corsi o sto producendo contenuti per conto di un editore esattamente come posso fare con un editore tradizionale editore che poi ha un'attività commerciale e mi paga in base alla performance quindi io in realtà sto vendendo un servizio a una società non sto facendo un'attività commerciale è chiara la domanda spero di aver espresso sì sì ho colto no nel senso che la la creazione e la vendita di un contenuto o di un servizio si configura sempre come attività commerciale per cui in realtà il fatto di vendere attraverso una piattaforma che può essere Udemy Amazon qualsiasi piattaforma ma il fatto stesso di vendere un contenuto un servizio fruibile scaricabile comporta sempre l'attività commerciale questo è un grosso problema quindi io non sto dicendo che sia giusto o sbagliato anzi io sono uno di quelli che visto che sono un formatore su questa attività sto anche attraverso qualche contatto cercando di far capire un po' anche al nostro legislatore che se uno vuole iniziare questa attività l'iscrizione cioè l'attività commerciale ha degli obblighi molto pesanti cioè la Camera di Commercio l'iscrizione all'Inps come commerciante e la scia comunale ma soprattutto ripeto l'iscrizione all'Inps cioè questi 4.000 euro da 4.000 a 5.000 fissi indipendentemente da quello che guadagno fermano questa attività limitano quantomeno questa attività però non c'è nulla da fare si configura come attività commerciale quindi non possiamo in nessun caso ritenere uno Udemy un editore e considerare i proventi dalla vendita di corsi come quelli dalla vendita di libri come Royalty no perché si configura non tanto come un editore ma come un marketplace che tu ce l'abbia privato che tu utilizzi Udemy sempre attività commerciale fai ti chiedo un'ultima cosa su questo perché è un tema molto importante non c'è differenza se il marketplace gestisce lui il prezzo la transazione commerciale e la percentuale di trattenuta o se come per esempio il Lens che è un marketplace professionale in realtà mette semplicemente in contatto chi vede e chi compra magari prende una commissione ma lascia decidere prezzo di vendita e gestire il rapporto direttamente in realtà per come conosco io Udemy tu hai la possibilità di aderire ad alcune offerte correggimi se sbaglio ad alcune offerte che può proporre Udemy stesso ma in realtà sei tu stesso che determini il prezzo intero del tuo del tuo corso perché in questo caso parliamo di corso e pertanto ritengo che sia molto difficile configurare questo come un editore quindi prendere solo le royalty perché in quel caso tu dovresti vendere direttamente e che anche qui se si tratta di un corso dovremmo verificare che non si configuri attività commerciale perché ti faccio un altro esempio è molto diverso ad esempio io faccio un po' nel mio podcast cito la Ferrero per rimanere in Italia la Nutella Ferrero ok in quel caso io avrò un provente da pubblicità la Ferrero mi paga perché ho citato la Ferrero se io costruisco uno spot per la Ferrero in quel caso è attività commerciale io ho costruito uno spot vero e proprio per la Ferrero e quindi metto il mio spot ecco in questo caso anche sui corsi online io costruisco un corso che non vendo aiutemi tra l'altro ma semplicemente utilizzo aiutemi fissando un prezzo e poi decido di aderire a delle politiche che mi aiutano a vendere il mio corso facendo degli sconti aderendo a delle promozioni che Udemy sceglie di fare ecco questo è senz'altro da approfondire perché una cosa che mi colpisce a parte che in realtà su Udemy tu puoi decidere se entrare in una dimensione in cui aiutemi a fare di te quello che vuole cioè tu puoi indicare ma a livello proprio di marketing un prezzo dici il mio corso costa 149 euro ma che tu dica 149 199 o 10 euro lui comunque vende il tuo corso alla cifra che vuole lui perché hai aderito alla politica di flessibilità dei prezzi di Udemy un'altra cosa che mi colpisce è che la percentuale cambia cioè decide Udemy se spingere o no il tuo corso tramite venditori di terze parti e quindi darti le commissioni inferiori sulle vendite di quel corso e tu non hai possibilità di entrare in contatto diretto con l'acquirente del tuo corso questo mi fa pensare che comunque Udemy sia in qualche modo un editore perché se io vendo le scarpe io prendo le scarpe tu vieni da me mi dai i soldi ti do le scarpe e ti faccio una fattura e so chi sei posso chiederti i tuoi dati posso contattarti in realtà su Udemy una persona va da Udemy prende un mio corso ma io di lei praticamente non so niente se non il nome che è inserito all'interno della piattaforma solo il nome non posso contattarlo e quello rimane comunque un cliente di Udemy ed è poi Udemy a raccogliere tutto e a mandarmi tutti i soldi decidendo lui dicendomi per esempio che Ilario è arrivato dal programma pubblicitario di Udemy piuttosto che dal dal mio link diretto condiviso sui social media quindi questo credo che sia insomma un aspetto sono forme nuove sulle quali senz'altro dobbiamo interrogarci con l'aiuto anche delle categorie della giurisprudenza attuale Ilario ti passo la palla se hai qualche ultima suggestione da condividere no direi beh intanto ti ringrazio per questa chiacchierata perché ecco ritengo che lo dicevi giustamente tu su queste forme nuove c'è bisogno proprio di creare un po' di cultura e anche di spezzo una lancia nel confronto dei commercialisti spesso e volentieri io sento amici creator che dicono eh però vado dal commercialista e lui mi ha detto così spesso e volentieri i commercialisti ragionano giustamente secondo delle categorie che finora sono state standard e dipende anche cosa tu gli racconti al commercialista quanto ne sai veramente dei servizi che utilizzi io mi immagino io abito in un piccolo paese di montagna ai commercialisti della mia zona in cui si presenta il primo creator e tu sai io ricevo delle donazioni da Patreon uno sa neanche cosa e dice vabbè se è una donazione di 5 euro poi tu non gli racconti che è ricorrente e quant'altro ecco per dire che un grande applauso a questa iniziativa che tu hai messo in campo cioè quella di cercare di approfondire questi temi perché poi ne va anche della nostra attività perché poi se esce un controllo se qualcuno qualche invidia e quant'altro io pago le tasse in un certo modo l'altro non le paga e quant'altro invece se ognuno ha la possibilità di scegliere consapevolmente come inquadrarsi in maniera corretta io credo che sarà un servizio per tutta la comunità dei creatori italiani quanto meno importantissimo siamo arrivati alla fine di questa puntata beh ragazzi che posso dire sono contentissimo perché in qualche modo la riflessione insieme su questi temi aiuta tutti a crescere crescere nella consapevolezza e crescere anche nella solidità dello sviluppo di un'attività perché poi a volte l'assenza di consapevolezza l'assenza di conoscenza su come funzionano le cose nel mondo reale lo sviluppo di business solamente così alla bersagliera perché le tecnologie ce lo permettono ci portano a sviluppare dei business molto fragili delle attività che al primo scossone crollano e ci lasciano così senza niente tra le mani allora ragazzi importante lo raccomando a tutti quando costruite un'attività costruitela bene a tridimensionale a 360 gradi non sviluppate solo un aspetto la comunicazione il marketing senza poi rispettare le leggi dei paesi nei quali viviamo nei contesti ai quali attingiamo per sviluppare i nostri progetti io ringrazio tantissimo Ilario Sabatini e mi ha particolarmente entusiasmato fare questa chiacchierata con lui perché Ilario è uno dei finanziatori di strategia digitale sapete lo dico sempre che strategia digitale non è che lo faccio io non è che lo fa la mia coautrice o il fonico lo fate voi voi che appartenete alla community di strategia digitale e le alimentate ognuno con le proprie competenze allora grazie mille a Beatrice Biasuzzi Riccardo Mancinelli Emanuella Liberti Cesare Ciaffaglione Maurizio De Lucchi Rosario Rizzo Francesco Maria Cursale Dario Pepe Igor Saschin Marzia Tomasin Antonino Cotroneo Giancarlo Spano Andrea Ciraulo Sara Veltri Flavio Figorilli Stefano Lagravinese Cruce Di Michele Antonio Pesacane Filippo Lorenzo Bardi Davide Zerbini Vittorio Neri Denise Calzolari Pasquale Sansone Mauro Tarantino Mauro Gadaleta Ilario Sabbadini che ha fatto questo episodio insieme a me Alessandro e Francesca di Orto di Coccinelle Lynn Vlog Wayne Roland Andrea Calvino Daniele Di Mauro Enrico Longo Massimiliano Trombacco Matteo Peroni Jacopo Riccioni Francesco di Surf VHDL Marco Paolini Antonio Mattioli Pulvio Iulita Paolo Gollo Massimiliano Berto Mare Apiscopo Raffaele Magnano Davide Rampoldi la maestra Laura Gabriele Tomantis Marco Bazzo di MyDigitalFin Stefano 2.0 Riccardo Pedica Giuseppe Mallamaci Domenico Garofalo Rodolfo De Mattei Paolo Corradechini Carmelo Sara Bortolozzo Sandro Ghini Serena Poletto Ghella Mauro Tosetto Giacomo Sisca Luca Ricatti Elvis Piopico Francesco Cucuini Max Agia Irene Villasanta Alessio Zumbo Domenico Bruno Giovanni Luca Frioli Roberto Mastrodiani Chiara Lorenzi Amerigo Marcelli Patuzzo Andrea Emanuele Capodrossi Bruno Sguerrini Michele Vitale e tantissimi altri ragazzi che ho provato non ce la faccio a leggervi tutti vi leggerò nel prossimo episodio perché siete tantissimi ragazzi vi rendete conto tutte queste persone finanziano strategia digitale tutte queste persone partecipano a questo viaggio mi sto quasi commuovendo perché quando quando ho iniziato ero io me myself and I e oggi siamo veramente tantissimi bene se vuoi entrare a far parte di questa community della community dei finanziatori di strategia digitale non devi fare altro che andare su strategiadigitale.info e scegliere come sostenere questo progetto un grandissimo grazie a tutti voi grazie alla co-autrice del podcast Irene Truant grazie al nostro fonico Costanza Mineo e grazie a radiospeaker.it per il sound design ragazzi grazie mille e alla prossima strategia digitale idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano